Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi siamo nella sala viaggi di Palazzo Lombardia, dove è in programma un importante convegno, il titolo, il divario di genere nel lavoro autonomo e nelle libere professioni. In buona sostanza l'importanza di valorizzare anche il ruolo della donna in questo ambito e per questo abbiamo ascoltato l'assessore alla formazione e lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli e Letizia Caccavale, che è il presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale. Assessore, il divario di genere è sempre un argomento di crescente attualità, ma partiamo da una considerazione, intanto c'è un premier donna. Infatti è il tempo delle donne, ce ne siamo resi conto di tutti e di questa cosa siamo tutti molto contenti. Oggi parliamo di vario di genere. Il lavoro femminile è sempre stata una delle priorità del mio assessorato e oggi parliamo proprio del lavoro autonomo e delle libere professioni, che per quanto riguarda le donne è sempre un accesso più complicato di quelli degli uomini. Abbiamo moltissimi interlocutori, moltissimi protagonisti che interverranno perché vogliamo ascoltare diverse voci delle associazioni, diversi pareri proprio per rafforzare le nostre misure per incrementare l'occupazione femminile come abbiamo fatto in questi ultimi anni, soprattutto durante la pandemia, dove le donne sono quelle che hanno più sofferto la perdita del lavoro. A Regione Lombardia in particolare il suo assessorato si è caratterizzato per iniziative di questo tipo durante questa legislatura? Sì, assolutamente. Noi naturalmente favoriamo l'occupazione, contrastiamo la disoccupazione, ma abbiamo un occhio particolare sul lavoro femminile durante la pandemia. Per esempio una delle mie misure che ha avuto più successo è Formare per Assumere. Abbiamo incoraggiato le aziende alla assunzione femminile. Negli ultimi mesi sono state assunte 6.800 persone e il mio orgoglio è che il 54% sono donne. Quindi viva le donne, viva il tempo delle donne, viva Regione Lombardia. Il Consiglio per le pari opportunità della Regione è un organo di garanzia che ha due compiti principali. Il primo è di garantire che nei progetti di legge non siano presenti discriminazioni di alcun tipo e il secondo è quello della promozione della cultura di parità. Sul tema del divario di genere abbiamo lavorato molto in questi anni come Consiglio, mettendo in campo numerose azioni, tra cui quella che ho più a cuore è il premio Parità Virtuosa. Un riconoscimento che abbiamo deciso, spinte dai dati allarmanti delle dimissioni di lavoratrici madri in tutto il paese e in Lombardia che segue l'andamento nazionale su questi dati, che raccontano di donne che fanno fatica a conciliare la vita privata e familiare con quella lavorativa. Abbiamo quindi istituito un riconoscimento che premia tutte le realtà lombarde tra associazioni piccole, medie e grandi imprese che vanno invece a valorizzare il singolo lavoratore, la singola lavoratrice e la famiglia con azioni di welfare molto concrete, che noi abbiamo individuato, abbiamo fatto una giuria che ha selezionato una rosa di 10 candidature e il 15 di novembre premieremo alla presenza del Presidente Fontane con le farfalle nazionali di ginnastica ritmica per enfatizzare il messaggio che la maternità non può e non deve essere un problema sul luogo di lavoro. Bene, ringraziamo il collega Massimo Calabro per le interviste e Andrea Mancuso per le riprese e arrivederci a un prossimo appuntamento con Lombardia Notizia Online.